Buonasera, eccoci. Alcune parole introduttive perché abbiamo cercato di gestire al meglio i problemi tecnici. Approfitto per avvisare che l'ultima conferenza, in effetti nel montaggio, siamo accorti che l'audio e anche la sequenza delle immagini non sono come dovrebbero. Quindi abbiamo incaricato la nostra referente responsabile di verificare il problema tecnico con il museo, ed effettivamente c'era, e di fare un rimontaggio abbastanza complesso, lungo. Tra qualche giorno vedete la conferenza al meglio, quindi si sentirà bene l'audio e ci sarà la sequenza delle immagini. E' la conferenza ultima, quella di Claudia Caramanna, sui due volti. Ringrazio e presento anche l'amico Elvis Baggio, che non l'avete mai visto, ma che si rende fatta in causa. Ecco, darci una mano. Lui è veramente un professionista. Vedete che le amicizie servono e a volte sono veramente preziosi. Anche questa conferenza verrà registrata. Come comunicato nella mia ultima circolare, alla fine della conferenza distribuiremo anche il nostro numero speciale dei notiziari. Se vi patientate, se qualcuno dovesse andare via prima, lo dica alla Giuliana, che eventualmente vi dà copie. Ma non andate via prima se potete ecco. Una parola vorrei dirla anche perché a Verona, in queste settimane, stanno ricordando di Cisco Magagnato. E a molti non dirà tanto, ma è stato direttore di questo museo. Lui è stato esattamente tra il 51 e il 55. Dopodiché è stato dal 55 all'86 direttore dei civici musei di Verona. Dicevo, a Verona c'è una serie di manifestazioni, culminate l'altro giorno con un convegno. A fine pomeriggio. Io ho assistito in parte in diretta, in parte nella registrazione. Chi volesse vedere questo convegno, che parla anche di Bassano, può andare nel canale YouTube dei musei civici. Ricordiamo che è stato, durante i suoi anni, che è stata acquisita la pala pinto del martirio di Santa Caterina, che attualmente è in Basilica Palladiana, la mostra sul rinascimento, che andremo a vedere. Io ero fielo di inaugurazione, è una mostra veramente da non perdere. E di Circo Magagnato, insieme ai loro sovrintendenti Moschini, hanno fatto sì che venisse dalla chiesa parrocchiale di Sostano la pala di Sant'Anna. Era finita lì, ancora nell'Ottocento, perché evidentemente le gallerie d'accademia non erano così interessate a tenerla da loro. Quelle stesse gallerie d'accademia, che invece sembra che adesso non possono fare a meno della pala di Sant'Anna. Comunque, se arrivò e rimase a Bassano, fu inizialmente gratte di Circo Magagnato. Quindi è una persona da ricordare e vi invito anche a celebrarla attraverso il canale YouTube dei Musei di Verona, andando a vedere il convegno che è stato registrato. Passiamo adesso alla nostra conferenza, che conclude il nostro anno di attività. Il Divio e il Bertone, in cosa stesso io, ci tenevamo particolarmente che fosse il dottor Mattoni a chiudere l'anno. Perché lo conoscevamo, perché la Divio ha anche lavorato insieme, perché è stato qui a Bassano non tantissimo tempo fa a parlare di Piranesi a Palazzo Sturma, e perché vi assicuro che con un ruolo come il suo alla Fondazione Cini non si arriva per caso. E lì le selezioni sono vere. Quindi il merito viene riconosciuto. Dico solo di lui che, oltre che essere appunto, come dicevo nella circolare, storico dell'arte, responsabile scientifico delle collezioni d'arte della Fondazione Cini, è anche docente di storia dell'arte presso l'Università Internazionale dell'Arte di Venezia e ha al suo attivo pubblicazioni sulla pittura e la miniatura italiana dal XV al XVIII secolo. Non tolgo altro stascio e gli passo la parola. Buonasera, dovrò blindarmi al microfono per la ridistruzione. Io sono solito parlare con altro tipo di prossemica e retorica, per cui, perdonatemi, dovrò stare seduto e immobile al microfono. È un grande piacere essere qua a Bassano. Io ringrazio gli amici dei musei, il dottor Zannoni e tutta l'organizzazione di questo gruppo straordinario per questo graditissimo invito. Torno con grande piacere a Bassano dopo pochi mesi l'appuntamento piranesiano e desidero salutare anche alcuni di voi tra il pubblico che stimo molto, in particolare la dottoressa Giuliana Ricani, che mi piace sempre ricordare come non solo una grande studiosa, una delle più importanti studiosi della cultura pittorica bassanesca e di Jacopo Bassano, ma anche una grande direttrice. Dico grande direttrice, lo sottolineo due volte, proprio per ricordare tempi in cui i musei, diciamo così, avevano nelle proprie profili di selezione altro tipo di metodologie. E ringrazio ovviamente l'amica Livia Alberton Vincodassesso, che è stata compagna di avventure, di studi, in particolare ha principiato il nostro rapporto durante gli anni di lavoro per quei poderosi volumi sugli affreschi e le pitture murali delle ville del Veneto e del Flù di Venezia Giulia. E ricordo sempre che Livia non è solo una studiosa del territorio e della cultura artistica bassanese, ma è una storica dell'arte tout court, che conosce molto, molto bene l'arte veneta, di cui ci siamo avvalsi proprio per la stesura di questi repertori, di questi cataloghi. Fate queste debite premesse di ringraziamento e di saluto, entriamo nel vivo del nostro argomento. Io non vi voglio assolutamente annoiare questa sera, ho tante immagini, vorrei in qualche modo costruire con voi un percorso, mettiamo pure il nostro PowerPoint, costruire con voi un percorso su un tema a me molto caro, a me molto caro, perché negli ultimi anni mi sto occupando di questa peculiare tipologia di documenti miniati, che questa sera vorrei cercare di presentarvi negli aspetti generali, ma allo stesso tempo calare il tema delle commissioni dogali miniate nel contesto bassanese. Vi prego di interrompermi qualora riteneste che sto dando troppe informazioni o qualcosa non sia chiaro. Allora, dal titolo potete immediatamente cogliere uno degli aspetti cogenti, focali, della nostra discussione, parafraso Federico Zeri, quando durante le sue elezioni alla Columbia, durante le sue elezioni universitarie americane, sosteneva con forza la difficoltà di noi moderni a entrare nella, diciamo, complessità di un'opera d'arte dal punto di vista del contesto fruitivo e del contesto di produttore che quest'opera ha generato. Siamo stati per, diciamo, più di 150 anni abituati a leggere i fatti formali dal punto di vista puro visibilistico fino a che, a un certo punto, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, si è iniziato a fare un percorso di analisi di metodologia storico-artistica che ha posto al centro dell'analisi dell'opera d'arte il contesto politico, culturale, sociale. Oggi questo tema, tra l'altro, sta un po' sfuggendo di mano, si rischia di dimenticare, ahimè, a volte, che il fatto d'arte va anche considerato nella sua cogenza formale. Ma fatto sta che questa sera noi dovremo compiere un tragitto che pone al centro del fatto d'arte, dell'opera d'arte, il contesto politico e culturale che lo ha prodotto. In particolar modo, questa sera ci confronteremo sull'arte e la rappresentazione del potere. E vedremo che questi documenti miniati hanno in tal senso un valore, direi, essenziale, perché si offrono come strumenti fondamentali per la celebrazione, l'autocelebrazione, la legittimazione di censo, di un cursus honorum, delle glorie familiari, e allo stesso tempo si salda con le necessità politiche di celebrare nei territori sudditi della dominante il buon governo e le virtù del buon governo della Serenissima nelle aree del dominio da terra, del dominio da mara. E vedremo nel caso bassanese come questo tema sia particolarmente importante per le testimonianze che noi possediamo. Allora, entriamo nel vivo e ricordiamo che queste commissioni dogali si apparentano a documenti analoghi legati alla cancelleria ducale che sono le promissioni dogali. Queste ve le faccio vedere in incipit perché voi possiate capire la differenza tra una promissione dogale e una commissione dogale. La promissione, o promissio, dalle prime parole di incipit di questo documento, è diciamo lo strumento, il documento di, vogliamo dire, controllo di legittimità nei confronti della potere dogale. Il documento con cui il doge giura davanti al Vangelo, in nome di San Marco e sul Vangelo, di rispettare compiti e obblighi che in qualche modo vengono codificati all'interno di questo documento che si sa inizia a essere prodotto a partire dal XIII secolo e dal 1289 in particolare questa promissione verrà redatta in tre copie, una per il doge, una per la cancelleria dogale e una per i procuratori e che verrà presto, come dire, diventerà presto un documento in pergamena arricchito di decorazioni sontuose. La promissio come controllo di legittimità, c'erano delle magistrature apposite che dovevano controllare, tra l'altro, che il doge rispettasse gli obblighi indicati nella promissio e come vedete, qui ve ne offro un esempio straordinario, è la promissione del doge Cristoforo Moro, eletto nel 1462, perché vi mostro questa promissio? Oltre per la bellezza, perché è una delle pochissime, anzi forse l'unica documentata con documenti di pagamento, o meglio di rimborso alla raison vecchia, dei denari che dovevano spettare al miniatore. Questo è un documento che fu trovato da Lino Moretti, non so se qualcuno di voi lo conosce, purtroppo è mancato qualche anno fa, è il compianto, Lino Moretti, grande studioso d'archivio, che ha recuperato questo documento e che ha consentito di collegare questo straordinario documento, questa promissio, conservata dalla British Library di Londra, al nome di Leonardo Bellini. Fino ad ora non si erano messi insieme documenti miniati, miniature, decorazione miniata e questo nome, il nipote di Jacopo, tra l'altro, e quindi abbiamo un nome, un documento che ci ha consentito di ricostruire il corpus del miniatore Leonardo Bellini, che ha lavorato moltissimo proprio per questa tipologia di documenti. Qui, tra l'altro, vediamo sul substrato fiorentino la cultura ferrarese della Bibbia di Borso che sta per arrivare, vediamo i riferimenti mantegneschi nei genietti Regiscudo, ma soprattutto vi volevo fare notare questa specchiatura che è la scena madre, quella della prosciunesis, lo dico alla greca, della prosciunesis, dell'inginocchiamento del doge, quindi in termini di dedicazio, l'inginocchiamento del doge innanzi alla Vergine col bambino. Vedete, il doge si inginocchia, una sorta di micropala d'altare e trova referenti, in termini iconografici, già molto consolidati nell'arte veneziana, a partire dalle tombe dogali, o meglio chiamarle tombe ad arcosolio, questa è una delle più celebri e delle più antiche, 1339, la tomba del doge Francesco Dandolo e della moglie Elisabetta Contarini con i santi eponimi che li presentano al cospetto della Vergine, tomba ad arcosolio, perché vedete, è inserita all'interno di questo arco gotico, parietale, e che si trova oggi nella sagrestia di Santa Maria Gloriosa dei Frari. Il pittore che realizza questa tavola straordinaria è Paolo Veneziano. Iconografia, questa della proskunesis, usiamo la parola greca, del doge, nei confronti di Maria Vergine, che troviamo anche in un'altra celebre opera legata alle committenze pubbliche, questa della pala Barbarigo, del doge Agostino Barbarigo, 1488, quindi qualche anno dopo la nostra promissio di Leonardo Bellini, e che ci mostra il santorale pubblico. Vedete San Marco che accompagna il doge inginocchiato in atto di devozione innanzi a Maria Vergine e straordinario questo tendaggio appunto che si spalanca per mostrare il paesaggio retrostante. Ora, questo si trova a Murano, nella chiesa di San Pietro Martire, ma proviene dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli, alla quale era stata lasciata dallo stesso Agostino Barbarigo al doge nel testamento del 1501. In realtà era stata concepita probabilmente per un luogo all'interno del Palazzo Ducale, altri ritengono dello stesso nella cappella di palazzo, ma molto probabile data l'iconografia che si trattasse di un'opera per il Palazzo Ducale. E poi, accanto alle promissioni, ricordiamo i giuramenti dei procuratori. I procuratori di San Marco, sapete, i curatori dei beni della Cappella Dogale di San Marco, che inizialmente uno diventano più di uno nelle varie riforme che si succedono fino a, diciamo, a tripartirsi nelle figure dei procuratori de Supra, cioè quelli dei beni di San Marco, procuratori de Ultra e procuratori de Citra per i beni di là e di qua dal Canal Grande. i beni, diciamo, della Serenissima. Accanto a, dicevo, le promissioni noi dobbiamo collocare questi documenti che sono i documenti cosiddetti dei giuramenti dei procuratori. Ecco, qui vediamo un caso notissimo, molto bello, che si conserva nella biblioteca del Museo Civico Correr, il giuramento, detta anche commissione, di Giovanni D'Alezze, eletto procuratore de Supra nel 1538. Il miniatore è un miniatore di origine fiorentina, Jacopo del Giallo, sponsorizzato da Pietro Aretino, un artista che porta in laguna la cultura, diciamo, la primissima cultura, il primo manierismo, diciamo, di matrice tosco-romana all'interno della cultura miniatoria. un artista di cui oggi conosciamo moltissime opere, non soltanto nell'ambito dei documenti dogali, ma anche di antifonari e manoscritti umanistici. Ecco, vi volevo fare vedere, scusate, la promissione del doge Antonio Grimani, il riabilitato doge Antonio Grimani, sapete, grazie agli uffici della famiglia dopo le disostrosi prove come capitano Damar nel 1499, tanto che si fece l'esilio per questa prova disastrosa in ambito militare, e che poi fu eletto doge nel 1521, questa è la sua promissione che è stata riconosciuta opera di Benedetto Bordone con un altro miniatore, maestro del canzoniere del grifo, ecco, Benedetto Bordone che è uno dei protagonisti della miniatura veneziana tra 4 e 500, che dà anche disegni per esilografie, qui in un sontuosissimo ma una sontuosissima promissione, vedete, con la proschionesis del doge, dell'atto di dedicazio davanti a San Marco. questa è sempre la British Library e qui vi ho messo una moneta, un ducato d'oro del doge Giovanni Dandolo e una delle primissime oselle, le monete celebrative del doge proprio a partire dal doge Grimani, che si producono queste medaglie celebrative che si donano e che, vedete, riguardano ancora una volta questa iconografia dell'atto di proschionesis del doge davanti a San Marco. Ed eccoci giunti alle commissioni, alle commissioni dogali. Che cosa sono le commissioni dogali? Qui vediamo in questo ritratto di Giambattista Moroni, conservato a Budapest, un ritratto di una podestà. Allora, voi sapete che con l'allargamento dei domini della Serenissima che avvengono grazie a conquiste importanti e soprattutto a dati di dedizione spontanea di aree appartenute precedentemente alle signorie nei confronti della Serenissima, nel XV secolo si allarga enormemente lo Stato da terra, tanto che questo allargamento dei territori a Ovest porteranno di fatto anche a uno spostamento del baricentro degli interessi economici, si è detto dalla mercatura alla terra, il fenomeno della Villa Veneta è legato a questo accombiamento strutturale nell'economia, negli assetti economici della Serenissima e ovviamente questi territori strappati o che si sono diciamo direttamente dati spontaneamente dati alla Serenissima come nel caso per esempio poi vedremo meglio di Vicenza Bassano anche se lì dovremmo tirare fuori i nostri storici locali in realtà più che di diciamo di dedizione spontanea si parla di una sorta di transazione finanziaria tra come sapete i 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 e la serenissima al soldo di quasi 30.000 ducati ma non importa di fatto è una conquista diciamo così legata alla guerra contro gli scaligeri di Padova che viene si profila come di fatto una sorta di dedizione spontanea almeno così sulle sulle carte ufficiali questi territori fossero essi del dominio da terra del dominio da mar ma anche tutta una serie di incarichi legati per esempio incarichi militari legati alle guarnigioni di stanza delle galee che presidiavano i territori della Repubblica Serenissima erano governati attraverso figure diciamo così che erano garanti del governo centrale nei domini nei territori sudditi di queste figure di questi rettori dei reggimenti dello Stato noi dobbiamo ricordare soprattutto due figure che nelle città più importanti come Vicenza come Verona come Padova erano sdoppiate in due figure quella del Podestà e quella del Capitano in sintesi la distinzione era di carattere diciamo legato alle prerogative di governo cioè da una parte la giustizia civile e criminale dall'altra parte il controllo militare mentre nelle città minori anche se dire Bassano minore non ne vogliate la figura del Podestà e del Capitano coincidevano in un unico patrizio che veniva mandato a svolgere l'incarico da Venezia e questo incarico sostanzialmente durava dai 12 mesi ai due anni a Bassano sostanzialmente 16 mesi di governo ecco chi sono questi rettori sono membri del patriziato che con i loro incarichi nei domini nelle città suddite principiano il loro cursus onorum ovviamente le città facevano gola alle città più importanti un patriziato diciamo destinato a carriere meno fulgide era destinato alle sedi minori in questo ritratto di Giabattista Moroni vediamo il ritratto che è stato correttamente riconosciuto come Jacopo Foscarini Podestà di Padova nel 1578 e non Contarini come appare in questa iscrizione spuria e che ci mostra il Podestà con accanto proprio questi volumi queste commissioni la vedete in marocchino rosso con il sigillo ducale di Autentica quindi che cosa sono le commissioni ducali sono i documenti di incarico di tali reggimenti che normavano tutta una serie di obblighi doveri di prerogative legate all'incarico temporaneo dei membri patrizi che si assumevano questo onere di governo nei domini e che da documento elaborato nella cancelleria ducale ricordo che la carica era emanata dal maggior consiglio però di fatto è il doge in questi documenti che commette la carica al patrizio questi documenti migrarono presto dall'atto ufficiale cancelleresco in straordinari volumetti che passano dall'infoglio all'inquarto tra XV e XVI secolo riccamente miniati ma perché queste copie sontuose copie sontuose che la storiografia ritiene essere copie da tesaurizzare presso diciamo così gli archivi familiari testimonianza proprio di queste prerogative governative legate al cursus onorum vediamone alcune questa una delle rarissime firmate dal miniatore questo gaspare da Verona di cui ci piacerebbe sapere di più ahimè sappiamo pochissimo la commissione di Marino di Giovanni Antonio Veniera potestai capitano di Sacile 1551 alla purple morgan library di New York guardate questo è nel caso dell'incipit di questa commissione il manoscritto è integro in questo caso poi vedrete altre commissioni con fogli staccati e vi spiegherò perché questo manoscritto presenta le prime pagine dell'incipit della committimo stibi nobili viro cioè la formula con cui si principia l'atto cancelleresco di nomina con questa magnifica diciamo pagina albertiana diremmo finestra albertiana la figura allegorica della prudenza e qui vedete l'atto ancora una volta di prosciunesis di omaggio di adorazione nei confronti della vergine in questo caso il nostro marino veniere è accompagnato dall'allegoria della fede il paesaggio si spalanca su una veduta fluviale e vedete questo gaspare da Verona questo miniatore di cui non sappiamo praticamente nulla già è pienamente intriso di quella cultura diciamo matrice centroitaliana da un lato nella esibire le grottesche vedete le candelabre all'antica e allo stesso tempo io qui ravviso soprattutto vedete qui molto bene nella figura allegorica della prudenza ravviso vedete che si guarda allo specchio alcune tracce di un veronesismo filtrato soprattutto dalle opere giovanili qui vi metto la celebre opera della adultera di Paolo Veronese della National Gallery di Londra siamo intorno al 1548 però volevo farvi un confronto non dico più cogente ma interessante perché si tratta di uno dei frammenti dei celebri affreschi della villa l'assoranza di Treville vicino a Castelfranco opera di collaborazione tra il giovane Paolo Veronese il Canera lo Zelotti Bernardino India purtroppo agli inizi dell'Ottocento completamente distrutta con gli affreschi staccati da balbi ricorderete fatti a pezzi e in grande parte venduti sul mercato antiquario londinese restano alcuni frammenti straordinari nella sagrestia del Duomo di Castelfranco chi di voi è stato sicuramente li avrà visti e soprattutto le figure allegoriche veronesiane come questa della della temperanza della scusate della prudenza 1551 villa di Paolo Soranzo a Treville di Castelfranco ancora queste commissioni sono appannaggio talvolta di artisti pittori di professione che si cimentano anche nella miniatura come il caso rarissimo di questa commissione dogale di vettor Michiel a Podestai capitano di Mestre ora non sappiamo 1552 o 1555 che sono le due date diciamo in cui questo patrizio ha ricoperto tale incarico perché non lo sappiamo perché purtroppo questo è un frammento di una commissione integra che è stata smembrata come spesso accade noi troviamo centinaia di questi documenti miniati nelle biblioteche nelle collezioni private nei musei soprattutto nelle raccolte di cutting cioè di frammenti miniati perché il mercato diciamo ha portato alle disiecta membra quelle che noi definiamo disiecta membra cioè a fare a petti i manoscritti e a tesaurizzarne soltanto le parti miniate cioè le pagine miniate nel caso di Cremona al museo civico di Cremona abbiamo questo foglio staccato da una commissione che però è possibile identificare come quella di Vettor Michiela capitano di Mestre non abbiamo la data precisa ecco e che ci mostra appunto il pittore di cui è stata recentemente fatta una bella mostra ricorderete che ha messo a fuoco il suo ruolo fondamentale di traghettatore di tutta una cultura legata a Giulio Romano nella territorio Veneto un pittore girovaco che ha girato molto è stato molto a Milano e che qui vi mostro a confronto con una delle sue delle sue opere pubbliche più note una dei tre tondi del soffitto della biblioteca marciana del grande salone della biblioteca marciana 1556 1557 agone artistico tra i grandi artisti della possiamo dire così legati alla maniera centroitalica tra i quali lo stesso veronese ma non solo Giuseppe Porta Licinio e tanti altri tra questi c'è De Mio vedete in questa allegoria delle quattro stagioni che può essere ben messa a confronto con la commissione Michiel di Cremona e poi accanto a questi miniatori o pittori prestati alla decorazione miniata come nel caso di De Mio o di meteore come questo Gaspare da Verona di cui parrebbe addirittura l'unica miniatura a lui attribuibile abbiamo invece miniatori di professione miniatori di professione che sono legati evidentemente alla cancelleria ducale e offrono i propri servigi di decoratori in modo continuativo con legami evidentemente molto stretti anche con il cosiddetto segretario alle voci il segretario alle voci è diciamo carica di cancelliere ducale preposto diciamo così al controllo e alla correttezza di questi documenti delle commissioni dogali ci siete vero sono sono mi seguite vero allora uno di questi miniatori purtroppo e ve lo presento perché è stato oggetto di un mio studio recente che ho pubblicato su storia della miniatura ho cercato di ricostruire il corpus di questo maestro di questo miniatore anonimo di cui purtroppo non siamo in grado di afferrarne l'identità e che viene definito Morgan Master con un name piece cioè un nome preso da un'opera cardine che serve a dare il nome all'anonimo in questo caso ha una foglio staccato che si trova alla Pierpa Morgan Library di New York ecco perché è chiamato Morgan Master cioè da questo frammento alla Morgan che era noto come frammento della commissione dogale di Antonio Bragadin come Podestà di Brescia 1568 un personaggio di cui noi sappiamo molto è stato provveditore alle fabbriche coinvolto nella costruzione del tempio votivo del redentore di Andrea Palladio personaggio con un cursus honorum con una carriera politica molto importante e che inizia come guarda guarda caso come Podestà di Brescia Brescia Cremona Bergamo sapete che erano territori della Serenissima con l'Adda a fungere diciamo così da crinale con la sistematizzazione che ci sarà dopo i fatti dei collegati ai collegati cambraici quindi a Cambrai e al momento in cui la Serenissima se l'è vista brutta fino a consolidare negli anni appunto dopo Cambrai il proprio dominio che arriva a lambire appunto l'area diciamo quella che era il Ducato di Milano e che poi cade sotto la dominazione straniera come sapete bene era noto questo frammento io ho ritrovato la seconda il secondo foglio cioè praticamente la prima la prima carta miniata al verso mentre quella Morgan è la seconda miniata al recto dove l'ho trovata? L'ho trovata in una collezione privata veneziana pensate proveniente dalle raccolte di Nino Barbantini ora qua qualcuno di voi quando cito Nino Barbantini si commuove è stato uno dei più grandi delle più grandi figure della museografia veneziana ferrarese del secolo scorso per la fondazione Cini un ruolo fondamentale non solo perché è stato il primo presidente della fondazione Cini ma è stato il grande consigliere fino al 51 consigliere nei fatti d'arte del conte Vittorio Cini ebbene nelle collezioni di Nino Barbantini si custodiva questo frammento che io ho potuto ricongiungere al frammento Morgan facile è stato riconoscere il figiato perché signori perché accanto al Patrizio vedete che c'è il santo eponimo Antonio Abate Antonio si chiama il Patrizio qui c'è lo stemma Bragadin Antonio Bragadin sono andato a cercare facile è stato trovare il frammento Morgan già riconosciuto come frammento della commissione Bragadin del 1568 cosa addirittura proprio patente di provenienza medesima è stato trovare la traccia dei possessori dell'Ottocento cioè due grandi bibliofili inglesi uno dei quali Isdale e l'altro è Hibbert che hanno posseduto la commissione quando ancora era integra ecco poi quello che è accaduto e quando è accaduto non lo sappiamo quest'opera di scorporo che purtroppo contraddistingue sapete molto bene anche i libri da coro che venivano letteralmente fatti a pezzi per anche non solo per la tesaurizzazione ma soprattutto per smerciarne con più facilità i soli fogli mignati il ricongiungimento è stata una truvail importante che ci ha consentito mi ha consentito di ricostruire un po' il corpus di questo Morgan Master qui ve ne mostro alcune perché sono tante le opere che io ma soprattutto Elena Zepe è giunto il momento di citare Elena Zepe Elena Catalina Zepe è stata la grande studiosa americana presso la University of South Florida di Tampa che da anni ha messo insieme tutti questi documenti soprattutto quelli 4-5 centeschi li ha studiati con grandi accume e ha editato nel 2018 questo volume Venice Illuminated Power and Painting in Renaissance Manuscripts vi consiglio di leggerlo perché qui troverete una pluralità di fonti una lettura a tutto campo di questo fenomeno delle commissioni legate alle committenze pubbliche legate ai dipinti alle tombe ai ruoli politici svolti da queste figure protagoniste di questi documenti minati bene qui vi mostro la commissione dogale di Giovanni Soranzo come potestà di Bergamo l'anno prima 1567 a Baltimore alla Walters Art Gallery di Baltimore e poi vi mostro quest'altro documento di due anni prima del 1565 la commissione dogale di Sebastiano Marcello capitano di Brescia e provveditore di Salò e Riva del Garda altro aspetto fondamentale che voglio ricordare ecco qui vedete tra l'altro l'iconografia della prosciunesis col momento topico che troveremo in altri documenti analoghi della consegna del libro la consegna della commissione vedete qui in marocchino rosso tutta cesellata dai ferri con le decorazioni dorate sul cuoio quindi l'atto della commissione che viene esemplificata con l'atto della tradizio libris quindi in qualche modo della consegna del libro ricordiamolo sempre a Repubblica di San Marco Repubblica del libro sapete dal 1420 con il ritrovamento del frammento del Vangelo ritenuto scritto dallo stesso Marco e dicevo ancora l'atto di prosciunesis del magistrato davanti alla Madonna col bambino e tutta una serie che poi vedremo con più agio nei casi bassanesi di allegorie soprattutto virtù che rappresentano le virtù legate al servizio pubblico dei magistrati quindi in primis la giustizia e quindi direi non c'è molto da esplicitare più di questo cioè la Repubblica di Venezia è posta sotto legida della Vergine da un lato 421 data leggendaria della nascita di Venezia che si apparenta in qualche modo nata Vergine dalle acque alla nascita di Cristo il possesso del corpo dell'evangelista Marco dall'828 quindi la costruzione del mito della città evangelica e della città apostolica e le virtù legate non soltanto al buon governo ma al servizio dei magistrati quindi carità temperanza e giustizia poi vedremo meglio come la giustizia si declinerà nel tema di Venezia sul trono di Salomone e poi prima di passare alla seconda parte della conferenza e quindi a vedere i casi bassanesi vi mostro alcuni esempi di questo miniatore di grandissimo interesse che spero nel futuro di approfondire e cercando vorrei ricostruirne un po' l'interezza del catalogo che era detto fino a poco tempo fa Huntington Master perché nella biblioteca di San Marino in California nella Huntington Library sono custoditi moltissimi frammenti attribuibili a questo maestro oggi identificato da Elena Zepe con il miniatore celebrato dalle fonti ottocentesche e citato in una fonte seicentesca l'Ancellotti come colui che avrebbe inventato la miniatura granita cioè questa miniatura a pontiglisma che sfrutta la porosità della pergamena per creare questo effetto pulviscolare che diciamo coglie la grana del supporto pergamenaceo per realizzare questo effetto che vedete molto bene qui aereo ma che in realtà sappiamo benissimo essere stato già messo a punto per esempio da Giulio Clovio quindi diciamo nulla inventato ma è un abile interprete di questo diciamo così stile pulviscolare perdonatemi questo termine un po' bruttino miniatore attento alla cultura internazionale del manierismo internazionale sarebbe interessante leggerlo in sintonia con la presenza di artisti a Venezia come Pozzo Serrato vorrei capirne di più su questo appunto manierismo rudolfino che sembra pervadere lo stile di questo miniatore che è stato identificato appunto con questo Giovanni Maria Bodovino di origine parrebbe si dice friulano ma qualcuno invece da documenti la famiglia era di Vazzola quindi miniatore tra l'altro che ho potuto ritrovare nei registri della giustizia vecchia nei contratti di Garzonato quindi era un miniatore attivo che aveva Garzoni aveva una bottega a Venezia perché è presente nei registri della giustizia vecchia e che deve aver avuto un legame privilegiato con la cancelleria ducale perché di questo si ritiene essere possibile attribuire questo corpus a Bodovino non è certo il collegamento non è chiarissimo ma per me ha ragione Elena Zepe quando dice miniatore celebrato legato a queste commissioni allora è il miniatore che qui si mostra nello stile di qualità maggiore citato tra l'altro da Cesare Vecellio nel 1590 come fornitore di disegni per il volume degli abiti antichi ma di più non sappiamo ora ci limitiamo a dire Bodovino punto di domanda al quale dicevo sono ricondotte moltissime di queste commissioni dogali qui ne vediamo una di Alessandro Contarini Podesta di Bergamo 1583 una frammento al Fitzwilliam Museum di Cambridge ancora qui vedete San Marco che consegna vedete la commissione al Patrizio al magistrato togato con la stola quindi ovviamente è Patrizio che ha carica onorifica a Venezia sembrerebbe questa tra l'altro la toga e la stola della dignità senatoria e poi un'altra trovail l'ultima che vi presento poi passiamo a Bassano che ho rinvenuto negli archivi fotografici della fondazione Cini una trovail interessantissima perché ho detto ma qui che cosa sta succedendo il doge che è Pasquale Cicogna lo riconosciamo non soltanto dalle effigie ma anche dallo stemma del dogale che troviamo qui al centro della cartouche ma anche il gesto di mettergli al collo una catena d'oro allora mi sono chiesto non è un giuramento non è una commissione per un magistrato qui vorrei magari che poi intervenissero le amiche storiche dell'arte che più di me sanno di questi documenti ho ritenuto potesse essere la pagina miniata di una patente di privilegio dell'ordine equestre di San Marco sapete l'unico ordine equestre esistente istituito nella Serenissima Repubblica sono andato a guardare i registri ebbene nel 1585 che qua c'è la data vedete che qua appare all'età di 65 anni ho scoperto che viene insignito un nobile trevigiano girolamo chiesa dell'ordine di San Marco guardate qui c'è una chiesa è una proposta però mi pare abbastanza incontrovertibile al di là dell'aver scoperta la patente di privilegio a me sembra molto e che è assolutamente riconducibile alla cultura di Bodovino di Huntington Master tanto che alla Fitzwilliam di Cambridge vi è una miniatura similare con l'effigie del doge Pasquale Cicogna che adesso qui non vi mostro ma è interessante vedere come si amplia la casistica di questi documenti miniati che sono veramente delle eccezioni nel panorama della miniatura e nel momento in cui si è affermata signori la stampa in cui si è affermata l'illustrazione libraria a stampa l'asilografia in primis ovviamente quindi vedere come questi documenti copie uniche diciamo così tesaurizzate dai membri di queste famiglie nobili del patriziato veneziano che si fanno fare la copia sontuosa e che in qualche modo iterano per secoli perché arriveremo all'ambire la fine della repubblica vi dico già che nel 700 e nel 600 la qualità di questi miniatori cala enormemente ecco perché ci si è concentrati soprattutto sui 500 e sui primi decenni del 6 dove ancora i miniatori hanno una qualità ragguardevole mentre poi diventeranno diciamo oggetti manoscritti miniati di una certa corrività ecco ho trovato molto interessante proporvi questo caso e ora passiamo alle commissioni dogali che io che abbiamo possiamo ritrovare che sono afferenti alla ruolo di podestà di Bassano ora qui avete avuto centinaia immagino di conferenze di storici come detto Ello storici locali che come la stessa Livia Albertondi avranno più volte spiegato che la realtà bassanese è una realtà estremamente interessante dal punto di vista del rapporto tra dominante e interessi locali nobiltà suddita la presenza a volte di come dire una certa riottosità soprattutto della nobiltà locale della poca nobiltà locale rispetto alle prerogative del patriziato che qui ogni 16 mesi si avvicendava nel governo il ruolo lo sapete delle magistrature comunali del consiglio maggiore come del consiglio minore della banca le prerogative codificate erano strutturate anche sui pregetenti statuti soprattutto quelli del 1389 che con la dedizio erano stati confermati gli statuti del 1389 lo ricordo sempre importante mette una parola fine nel rapporto nell'equilibrio delicatissimo tra rivendicazione di partecipazione al governo della cosa pubblica ma che sappiamo essere estremamente ridotto anche per esempio nelle cause della giustizia legate a cause di minore entità cioè la giustizia criminale la giustizia civile continuavano a essere esercitate assolutamente dal podestai capitano di Bassano quindi il patrizio garante interreferente del governo centrale vediamo un po' alcune allora questa la dovreste conoscere vero? come no? la dovreste conoscere perché è conservata qua nella biblioteca civica di Bassano del Grappa e credo sia stata anche esposta qualche volta purtroppo non avete molto qui nella biblioteca mi riserverò di fare un'ulteriore verifica nel fondi antichi e rari della biblioteca bassanese ma ecco quella nota è questa che qui vi mostro la commissione dogale di Giovanni Simone Zorzi podestà di Bassano nel 1537 esattamente dal dicembre 37 al novembre 38 manoscritto integro allora faccio miele parole di Giordana Mariani Canova che disse state attenti eh Livia disse con e lì secondo me c'è tanto futuro per gli studiosi guardate che anche nei miniatori meno dotati i ritratti dei magistrati sono molto precisi possono diventare uno strumento fondamentale di verifica delle centinaia di ritratti non identificati delle pensate a tutti quelli della scuola tintorettesca di Domenico Tintoretto che si conservano nei depositi delle gallerie dell'accademia e dunque essere una traccia una via perché diciamo qui l'effigiato è immediatamente riconducibile a un nome che noi troviamo nell'incipit della commissione anche quando questa non dovesse essere così immediatamente desumibile riusciamo se abbiamo lo stemma e confrontando tutti gli elenchi dei podestà dei capitani dei rettori delle terre suddite delle città suddite cercare di individuare anche per prossimità stilistica individuare il patrizio in questo caso è Giovanni Simone Zorzi il quale è qui effigiato vedete con la toga nera innanzi alla vergine e in questo impaginato estremamente interessante che ci mostra appunto la pagina libro ispirata ai frontespizi coevi che si apre sul paesaggio a mostrare il territorio bassanese questa è una specie di pattern di topos geografico che ritroveremo spessissimo quindi vi chiedo di prestare attenzione anche ai paesaggi qui vediamo lo stemma Zorzi e qui appunto il doge NOS Andrea Gritti vedete il doge Andrea Gritti che commette l'incarico a Giovanni Simone Zorzi ora prima di addentrarci un po' nell'analisi stilistica di questa commissione che è attribuibile a mio avviso io non ho mai trovato nella bibliografia bassanese che sia stata attribuita al maestro Tivè ma io credo che è acclarabile in modo patente che si tratta di questo miniatore di cui adesso tra un attimo parleremo di cui a cui possiamo attribuire la bellezza di 80 commissioni dogali possiamo dire che è il maestro più prolifico o meglio quello di cui si sono conservati più più documenti diciamo così prima però voglio ricordare che Giovanni Simone Zorzi è il podestà che ha commissionato a Jacopo Bassano una adorazione dei magi come possiamo rinvenire dal libro secondo che da tutta la critica da tutta la storiografia è stato riconosciuto come quello conservato a Stanford nella Burgley House la meravigliosa opera giovanile di Jacopo l'adorazione dei magi appunto che si conserva nell'Inconshire nella Burgley House e che con ogni probabilità è quella anche se non abbiamo una certezza assoluta ma diciamo che è il candidato ideale a essere identificato come proprio l'opera che questo podestà Zorzi ha commissionato per per la cappella del palazzo podestarile proprio qui di Bassano durante il suo mandato ora l'unica cosa certa che sappiamo è che l'opera si trovava in palazzo Wiedmann a Venezia nel 1648 e poi fu acquistato nel 1768 appunto da Earl of Exeter allora qui abbiamo una avendo in sala grandi esperti come la dottoressa Ricani mi risparmio un'analisi diciamo del dipinto che avrete avuto centinaia di migliaia di volte da lei e di altri illustri studiosi certo è che interessante sarebbe stato quello di avere una documento più patente ricordo che Rerich riteneva che la figura dal cappello piumato al centro di questo dipinto straordinario che già riverbera del dettato pordenonesco pordenonesco quindi su un substrato di Bonifacio di Pitati presso cui Jacopo si forma troviamo questa parte del dipinto che è già impregnata di cultura pordenonesca dicevo Rerich riteneva verloce carrellata è legato alle committenze podestarili soprattutto conosciamo nella produzione giovanile importantissime opere che sono state appunto frutto di commissioni pubbliche questa addirittura è la prima commissione pubblica l'atto di diciamo di battesimo pubblico nella propria comunità Jacopo viene viene Jacopo vengono commissionate queste tre tele per la sala dell'udienza del palazzo del pretorio dal podesta Luca Navagero che precede di pochi anni Zorzi vedete con saldo all'otto febbraio 1536 qui vi ho messo scusate una mia intuizione che lancio come provocazione alla dottoressa Ericani che qui ci ascolta ma sembra tantissimo qui a conferma del magistero Bonifacesco di ravvisare alcune diciamo momenti di tangenza con l'operato di Cernotto di Stefano Cernotto che si forma nella bottega di Bonifacio questa è la famosa cacciata dei mercanti dal tempio di Cernotto che si forma con Bonifacio e che oggi è custodita alla Fondazione Cinema che proviene da Palazzo di Camerlenghi che è stato proprio il cantiere in cui Bonifacio dei Pittati e la bottega si sono prodigati per anni per anni per fornire commesse pubbliche per i magistrati intendenti di finanza della magistratura appunto delle finanze della Serenissima quali sono i Camerlenghi ecco se mai qui nella terzo telero giovanile col Sidrac Midrac e Abdenago nella fornace ardente i tre fanciulli nella fornace ecco con il Daniele qui al centro della scena ecco forse da chissà che invece da identificare col Navagero non sia questa figura panneggiata in rosso ma sarebbe bello avere la commissione dogale quindi chissà che non escano altre commissioni che ci diano le fattezze di questi di questi patrizi ad aiutarci nella nelle identificazioni ecco per di Jacopo dobbiamo assolutamente citare invece questa importantissima tela che si trova sempre qui custodita nel museo di Bassano del Grappa e che è l'opera di Jacopo che è invece diciamo così in modo chiaro patente riconducibile a questo tipo di documenti di commissioni dogali cioè abbiamo un quadro votivo un quadro pubblico votivo in cui in questo caso il podestà Matteo Soranzo in carica dal febbraio del 36 a luglio del 36 appunto commissiona per la sala del consiglio del palazzo pretorio palazzo podestarile questo quadro votivo che poi diverrà un po' una sorta di exemplum per i successivi che poi vedremo qui convincente l'analisi di Giuliana Ericani che ci ha aiutato a decifrare questa parte del dipinto soprattutto del San Matteo che presenta il proprio eponimo in podestà Matteo Soranzo alla Vergine qui c'è la pala Pesaro di Tiziano a fare da come dire da referente ma direi soprattutto nell'angelo che con chiara come dire prossemica e con chiara gesto indica l'incipit di quel grande libro che si squaderna e con questa indicazione libro 6 l'analisi di Giuliana Ericani mi pare incontrovertibile perché legata proprio al quadro votivo e al contesto politico in questo si colloca che si tra possa trattarsi proprio del discorso della montagna di Cristo libro 6 che inizia con libro 6 e che si riferisce appunto alla virtù di nascondere in qualche modo i propri atti caritatevoli cioè gli atti di carità siano in qualche modo non siano esibiti ecco direi che è convincente questa analisi in questo straordinario quadro votivo che ci aiuta meglio a mettere insieme proprio vedete i documenti miniati e i dipinti qui vabbè la Santa Lucia è chiaro riferimento non soltanto alla cultura di Lorenzo Lotto ma direi anche alla bambina con le trecce e la vesticciola rigata della celebre presentazione al Tempio degli anni 30 di Tiziano la scuola della carità ecco poi devo farvi vedere questo ritratto di Cassel il ritratto di gentiluomo veneziano di Cassel del museo di Cassel Stadlich che si è sempre ritenuto essere la possibile effigie del podestà di Bassano Bernardo Morosini in carica tra luglio del 41 e il 42 ci starebbe benissimo con la datazione in questo momento già salviatesco già di apertura verso le novità centroitaliane che Francesco salviati il circolo aretiniano il circolo di Marcolini Giuseppe Porta portano scusate la tautologia a Venezia se non che qui però voglio il conforto di Livia e della dottoressa Ricani a me pare di escludersi che possa trattarsi di un podestà perché secondo me questa stola nera la toga imbroccato la stola nera il cappello calcato così dovrebbe essere i simboli delle vesti dei membri del Consiglio dei Dieci quindi io darei questo abbrivio a fare analisi e ricerche non so se questa cosa è stata già detta da qualcuno ma mi sembra di escludere che possa trattarsi di un podestà e piuttosto che sia invece un membro importante in questo momento sapete che Jacopo si afferma come pittore anche della della Serenissima come ritrattista e che possa trattarsi quindi della stola nera e del cappuccio di un membro della famigeratissima magistratura di polizia segreta del Consiglio dei Dieci che sapete fu istituita e poi confermata come magistratura permanente dopo la congiura di Baiamondo Tiepolo che aveva le prorogative di controllo poliziesco sui fatti con tanto di tribunale segreto dei tre inquisitori quindi Bernardo Morosini al momento lo escludiamo del resto ricordo che Bernardo Morosini è colui che però fa realizzare il podestà Morosini la fresco con il Marco Curzio che si getta nella voragine apertasi secondo i fatti degli annali raccontati da Tito Livio di cui oggi c'è solo una pallida parvenza sulla porta di Eda che fu appunto prende il nome dal podestà Domenico di Edo seconda cerchia questa c'è il famoso palinsesto di Età Viscontea con lo stemma del primo podestà Zane e poi vi faccio vedere questo ritratto ve la butto là sempre alla fondazione Cini come deposito delle galliere dell'accademia si custodisce questo ritratto del senatore Bernardo Morosini che va indagato allora io ve la butto là nel senso che non ho avuto tempo di controllare per cui mi è venuto in mente che un Bernardo Morosini in veste senatoriale è presente in questi ritratti in deposito dalle gallerie dell'accademia di ambito tintorettesco questo potrebbe essere databile intorno al 1560 che sia il nostro Morosini che investe di senatorie la lascio come grande punto interrogativo dicevo che la cultura di questa commissione dogale si apparenta una serie di commissioni dogali ce ne sono moltissime legato a questo maestro ahimè anch'esso anonimo lo definiamo maestro ti ve perché ti ve perché vedete qua in bade page appare in questa commissione al podestà di vicenza pietro tagliapietra conservata come foglio staccato al Fitzwilliam di Cambridge troviamo questa sigla ti ve ora secondo me è spuria addirittura e forse si riferisce a qualche passaggio a qualche deposito non mi pare di ravvisarvi una firma onestamente però addirittura aveva fatto dire nell'ottocento e nella prima metà del nove che potesse trattarsi di Tiziano Vecelli ovviamente pura fantasia però oggi lo chiamiamo maestro ti ve perché non siamo stati in grado di riconoscerne di identificarne l'identità anagrafica un miniatore di grandissimo interesse che proprio per questa produzione così ampia a volte scade anche in una sorta di corridità di maniere grossolane mentre a volte ci lascia opere di grande raffinatezza tanto che siamo convinti possa trattarsi di una bottega strutturata con allievi che in qualche modo lo aiutano a realizzare queste commissioni torno a dire ne abbiamo contate circa un'ottantina ve ne mostro qualche duna beh qui vi ho messo il tree master e benedetto bordone perché l'inizio del maestro Tivè si colloca in questa idea di pagina traforata e si spalanca sul paesaggio secondo moduli tipici di questi maestri precedenti come il tree master e il benedetto bordone che abbiamo già visto qui ve ne mostro un'altra della commissione dogale di marino cavalli a podestà di vicenza 1535 a roan alla mediatek di roan molto vicina stesso anno stessa qualità stesso impaginato vedete con la finestra ornata di racemi questi bellissimi ibridi questi cavalli che le cui code formano si intrecciano alle alle cornici degli fondati su cui si apre il paesaggio vedete che bello lo stemma il blasone che pende allacciato alla tabula della scrittura la crisografia e poi ancora una volta vedete tutta una serie di riferimenti come in questo caso Girolamo Sebastiano ha i nomi o gli eponimi dei patrizi o dei padri talvolta vi mostro questa di Filadelfia del 23 perché l'impaginato della scena mariana sembra essere abbastanza vicina a quella bassanese la signora giustamente che dice iniziamo a capire come questi pattern questi moduli si iterino e quindi sia anche facile comporre queste diciamo questi corpora e devo dire che comunque questa di Filadelfia è il più legata vedete all'impaginato delle precedenti e devo dire che di questo impaginato architettonico a frontespizio con diciamo una sorta di altare onestamente io del Tivè non ne ho trovati altri il maestro Tivè quindi comunque il caso bassanese è un unicum come tipologia di impaginato e ancora altre vedete di giuramenti di procuratori come questa di Venezia a sinistra e della British Library a destra e poi vi mostro questo meno diciamo meno degno dal punto di vista della qualità che si trova alla biblioteca marciana come manoscritto integro e che ci mostra ancora una volta però vedete l'impaginato simile nella scena mariana alla commissione alla commissione bassanese questa è la commissione di Carlo Moro Podestà di Giustinopoli cioè di Capodistria e veniamo a quest'altra commissione bassanese è un foglio staccato si trova alla British Library di Londra ed è la commissione di Pietro di Giovanni Pizzamano a Podestà di Bassano tra marzo 1544 e agosto 1545 allora c'è un bell'articolo di Francesca Montuori che ha fatto tutta un'analisi di questa figura di Pizzamano del fratello che era arciprete a Bassano e quindi legato tra l'altro a questo libercolo che si trova custodito proprio nella biblioteca di Bassano con una diciamo così scritto apologetico una sorta di Orazio celebrativa del proprio Podestà da parte di Camillo Giraldo che poi fu fatto copiare dallo stesso Pizzamano quando fu Podestà a Bergamo da Giovanni Fortunato Lolmo ricchissimo di decorazioni e molto interessante non ho le fotografie ma vi invito a riprenderlo in considerazione quello straordinario libello ebbene qui troviamo di nuovo in questa commissione Bassanese al Podestà Pizzamano lo stesso nostro maestro Tivè vedete ancora la scena mariana qui il paesaggio si apre di più sul Brenta vedete il castello il monte grappa vedete invece la carnice che si compone di queste panoplie all'antica che compongono questi cantonali che ci danno anche il segno di una cultura antiquaria a cui appartiene il nostro il nostro maestro bene ricordo che Pizzamano è il committente il Podestà Pizzamano è il committente di questa opera allogata il 12 aprile del 45 custodita oggi da qualche anno alla Washington alla National Gallery e proprio Montuori legge il rapporto tra commissione e dipinto in relazione proprio alla figura di Pietro opera straordinaria che è preludio già alla celebre Trinità di Angarano e che è stata letta da Montuori in relazione alla figura proprio dell'ortodossia di questi due fratelli mi pare che il fratello si chiamasse Francesco Pizzamano mentre il nostro Pietro qui vuole mettere in luce in questa commissione a Jacopo Bassano proprio il ruolo il primato Petrino confermata tale ortodossia e legame con la chiesa di Roma da un'altra commissione sempre dello stesso Pietro Pizzamano di poco prima quando aveva svolto l'incarico di rettore a Sitia a Creta sull'isola di Creta vedete quindi si facevano anche dei viaggi importanti nel senso che erano dislocati talvolta questi patrizi mandati in varie parti dei domini e guardate nella commissione di questa collezione privata Pietro Pizzamano rettore di Sitia come di nuovo il nostro Pietro si collochi accanto a San Pietro in veste di Pontefice qui vi chiedo di prestare attenzione a questa commissione perché la rivedremo dopo per dare un'altra chiave di lettura guardate questo promontorio con i pastori e con l'apparizione mariana che tornerà in un'altra commissione per quanto riguarda la scena centrale della dedicazio la scena della proschiunesis vi mostro qualche altra commissione similare questa della free library non sappiamo di ignoto qui tra l'altro sarebbe interessante perché probabilmente dietro alle fattezze di Sant'Antonio da Padova vi è lo stesso Patrizio che si è fatto qui ritrarre invece nelle vesti direttamente del santo eponimo come accade per i camerlenghi per il ciclo dei camerlenghi di Bonifacio dei Pitati e ancora questa commissione di Fitzwilliam che secondo la Zuccolo Padrono che è stata la studiosa che più si è occupata di queste commissioni una quarantina cinquantina di anni fa era stata riconosciuta questa figura come quella di Jacopo Soranzo io ho dei dubbi fatto sta ma non sappiamo esattamente chi sia questo Patrizio la lasciamo per ora ignota ma vedete che ripercorre la stessa impaginato per la scena centrale il paesaggio di quella bassanese mentre per quanto riguarda la cornice vi mostro questa della Chester Beatty Library di Dublino con la figura allegorica bravissima della giustizia o meglio è una sorta di fama alata che reca la bilancia della giustizia perché vedete che ha la tromba della fama e la bilancia della giustizia quindi è una ibrido diremo così ripiano dal Cesare Ripa tra fama e giustizia però vedete le panoplie e l'impaginato del cornice sono similari a quello della commissione pizzamano bassanese sì qui perché questa è la commissione dogale di Girolamo Zane capitano a Padova eletto nel 1544 il quale avrà una carriera importante questo è il suo altare ai frari col famoso San Girolamo di Alessandro Vittoria poi avrà una fine non gloriosa il nostro Zane ma comunque sarà capitano generale da Mara prima di Sebastiano Venier e ancora siete stanchi ce la fate a vederne un altro paio bene molto bene vi mostro quest'altra commissione bassanese che si trova negli archivi nazionali del Regno Unito esattamente a Kew che è un soborgo di Richard Richmond Appentains nei archivi nazionali si custodisce un manoscritto integro di una commissione bassanese al Podestà al Vise di Francesco Contarini 1550 esattamente l'incarico è tenuto sino all'aprile del 52 Podestà Contarini se non sbaglio Livia Contarini Alvise Contarini è quello che conferma l'esenzione a di tutti i dati a Jacopo Bassano in considerazione della sua fama se non sbaglio va bene guardate che bella questa commissione che ha il nostro Patrizio inginocchiato davanti al santo eponimo San Luigi di Francia con ammantato dei gigli d'Anjou e vedete questa composizione dove la scena si fa prossima allo sguardo del riguardante dove quasi la scena principale prende tutta la pagina mentre i cantonali si fanno semplicemente come dire sfondi per queste grottesche per queste figure di ibridi maschili con delle trombe diciamo così e degli uccelli ecco questa commissione giusto a metà di secolo sempre attribuibile al maestro Tivè dopo vi dico si apparenta a un'altra commissione dogale che si trova alla fondazione Giorgio Cini perché anche la fondazione Giorgio Cini possiede alcune commissioni dogali importanti questa è di ignoto magistrato di 52 anni perché vedete hanno etatis 52 io l'ho datata a 1550 ho provato a identificare il magistrato secondo me non è è un'ipotesi considerando che ritroviamo lo stesso promontorio e che sia anche questa creta ebbene io vi ricordo che il nostro Sebastiano Venier che poi fu Doge e poi prima capitano da Mar nella famosissima sostituendo Zane di fatto fu nel 48 fino al 50 Duca di Candia o Creta sì sì certo giusto bravi ricordato io ve l'ho detta all'antica io ravviso una certa somiglianza ora voi direte è un po' labile la traccia quindi prendete queste suggestioni sempre con estrema circospezione ma c'è un fatto che Sebastiano Venier fu Duca di Candia dal 1548 al 1550 la data ci sta ora ho rinvenuto nella biblioteca Maurizabbe dell'università di Lovagno pare che ci sia la commissione di Sebastiano Veniera Duca di Candia ho scritto nessuno mi ha mai risposto ho detto scusatemi mi potete dire se è priva della miniatura nulla oppure c'è un effigie non mi hanno mai risposto ho scritto esattamente prima del covid purtroppo forse ho indirizzato male la richiesta ritenterò perché oppure quando andrò all'Ovanio in Belgio voglio vedere verificare deviso questa commissione dogale di Sebastiano Veniera Duca di Candia e se è priva della prima pagina miniata potrebbe essere questa la candidata ecco un'altra di Francesco Romago a Podestà di Cittadella del 54 della British Library dove torna vedete la medesima composizione ricordo poi che dello stesso Alvise Podestà di Bassano nel 1550 abbiamo un'altra commissione dogale di quando lui era Podestà di Oderzo ed eccola qua custodita negli stessi archivi nazionali del Regno Unito vedete secondo quella compaginato che avevamo visto già nella commissione bassanese Zorzi qui ovviamente lui è più giovane vedete ci sono nove anni di differenza guardate qui giovane e qui un po' più maturo è impressionante scusate è impressionante la qualità e la realismo ritrattistico di queste diciamo effigi torno a dire che Mariani Canova ci ha visto lungo indagarle in relazione ai dipinti e ricucendo le carriere i documenti e ciò che resta della ritrattistica di cui abbiamo centinaia di quadri di ritratto di procuratore ritratto di senatore chi e come non sappiamo e ci avviamo alla conclusione un'altra commissione di Bassano è custodita ai musei civici veneziani nell'ascito Teodoro Correr questa devo dire un po' più bruttina certo ancora afferibile allo stesso maestro Tivè come avrete oramai capito sono convinto che le signore qua davanti che annuiscono d'ora in avanti quando le vedranno le riconosceranno anche loro perché è semplicissimo questo miniatore si riconosce a colpo d'occhio diciamo così e qui abbiamo la commissione dogale di Francesco Barbaro 1562 ecco tenne l'incarico fino al giugno del 63 e la cui commissione è integra custodita al Correr ha una pagina con la solita proschiunesis con la veduta fluviale del Brenta il castello di Bassano ovviamente non c'è il ponte ovvio dobbiamo attendere il 1568 vero di Andrea Palladio e guardate la seconda pagina quella di destra cioè la seconda carta recto con questa immagine della giustizia ma attenzione come di Venezia come allegoria della giustizia sul trono di Salomone una diciamo iconografia che per chi frequenta anche solamente a colpo d'occhio guarda col naso in su le spolia le vestigia della della città di Venezia si accorge che è un tema che torna frequentissimo e che qui vi mostro in un'altra versione in un'altra commissione dogale degli stessi anni custodita la fondazione Cini c'è la commissione di Melchiorre di Gaspare Salomon a podestà di Este datata nella corroboratio dal cancelliere Alvise Zamberti al maggio 61 e vedete tra l'altro che questa commissione di Melchiorre Salomon Salomon anzi forse meglio dire alla Veneta Salomon ci mostra la cavalcata del corteo del podestà che prende possesso del castello di Este guardate che bello mentre sulla destra torna l'immagine dell'allegoria di Venezia vedete spada e bilancia a ricordare che è Venezia come giustizia con i due leoni cioè il trono di Salomone e che sia il trono di Salomone ce lo ricorda questa iscrizione di legite justiziam qui iudicatis terra allora amate la giustizia voi che siete chiamati a ricoprire tale incarico e guardate quindi come anche le iscrizioni concorrono a costruire e a parafrasare l'universo simbolico del buon governo che è costantemente richiamato in questo bilanciamento tra città suddite e governo centrale e qui salto perché se no non arriviamo più alla fine e vi volevo mostrare eccola qua Filippo Calendario una degli archi polilobati della facciata sulla piazzetta del palazzo Ducale che ci mostra la giustizia Venezia come giustizia sul trono di re Salomone dicevo la Diligite Justitiams è l'incipit del libro della sapienza attribuito al figlio di re David Salomone Salomone che è colui che detiene le virtù della sapienza della giustizia la celebre scena della avveduto riconoscimento della madre certo con i due figli della madre vera e della madre falsa che tra l'altro è rappresentato proprio in uno degli spigoli della facciata di piazza San Marco che dà sulla porta della carta qui ovviamente tutta la costruzione iconografica di palazzo Ducale è esemplificato su il palazzo del Doge come palazzo di re Salomone e di Venezia come nuova Gerusalemme quindi Venezia nuova Roma perché possiede il corpo dell'apostolo Marco e Venezia come nuova Gerusalemme o meglio come incarnazione in terra della Gerusalemme celeste qui vi invito a leggere le bellissime pagine di Gino Benzoni di Vincenzo Mancini ancora qui in uno dei capitelli di palazzo Ducale sul trono di Salomone e poi ovviamente il celeberrimo trittico su tavola della giustizia 1421 di Jacobello del Fiore che fu appunto commissionato per il millennio della nascita leggendaria di Venezia per uno degli uffici della magistratura della giustizia criminale di Palazzo Ducale oggi alle gallerie dell'Accademia e ancora vedete dello stesso maestro il tema della pace che abbraccia la giustizia qui in questa commissione di San Marino in California le giustizia et pax osculate sunt quindi il bacio di pace e giustizia ovviamente sulla pax della Serenissima si sono costruite centinaia di orazioni apologetiche è la Venezia che grazie alla pace che sa mantenere presso la sua ampia ecumene è garante della prosperità dei propri sudditi e che torna vedete spesso nelle oselle qui vedete ancora la pace la giustizia che si danno la mano e che torna in un altro splendido dipinto di Bonifacio dei Pitati o bottega diciamo così sempre alla fondazione cinema proveniente dai depositi dell'accademia e dal palazzo dei Camerlenghi di Rialto la sede delle magistrature delle finale dei governatori delle entrate questo si trovava proprio nella stanza del magistrato e vedete come San Marco invita la pace e la giustizia a unirsi e vado in conclusione a ricordare come anche in tarda età Jacopo ci lascia un straordinario documento di questa devozio pubblica legata ai rettori legata ai magistrati delle terre suddite a Bassano lo straordinario quadro votivo del podestà Sant'Emoro che come giustamente indicato da Giuliano Ericani trattasi di opera di ex voto che il podestà Sant'Emoro commissiona a Jacopo all'anziano Jacopo come quadro votivo per la scampata peste del 1575 76 lo potete ammirare qui in museo un quadro commovente ad alcuni ha fatto storcere il naso perché il re eric stesso che vi ravvisava interventi del figlio Francesco diciamo un quadro straordinario non soltanto per la qualità per questo fraseggio di un colore che si spezza che si che si fa liquido che si fa tremolante questa è l'ultima maniera di Jacopo di Jacopesca e la diciamo scena della proschionesis col Sam Rocco ecco perché l'ex voto per la peste del 1575 76 e vedete la madonna in trono con il bambino che viene offerto proprio con un gesto benedicente guardate che proprio accanto alla vergine sul gradino si appoggia questo libro che ricorda Silvangelo ma io sono convinto che questa presenza del libro ricordi ancora una volta la nostra commissione dogale che come scrive Piero Lucchi doveva essere oggetto quasi vorremmo dire simbolico che non soltanto veniva tenuto ad imperitura memoria delle glorie familiare del cursus onorum ma anche come oggetto da mostrare proprio alla cittadinanza esemplificato ovviamente ancora una volta questo di Jacopo al suo precedente quadrone votivo per i rettori di Vicenza il Podestamoro il Capitano Cappello e nel grande quadro votivo realizzato sempre come ex voto per la peste questa volta a Vicenza del 1572 che oggi a Palazzo Chiericati ecco vedete ho messo qualche esempio come gli stessi minatori sfruttino alcuni modelli della pittura monumentale negli assetti compositivi per esempio nel caso qui della Madonna con il Bambino che sembra rimembrare proprio gli assetti di Jacopo Bassano e chiudo con Leandro non solo con questo bellissimo dipinto lasciato al Museo Civico di Bassano incomodato dalla Fondazione Domus di Verona sul quale ancora si dibatte sulla identità della figura di Podestà che si trova inginocchiato innanzi alla Vergine se si possa trattare di Francesco Battaglia 1579-81 l'incarico come suggerisce Ricani in virtù della diciamo così analisi stilistica di Leandro qui legato all'ultima maniera paterna sapete Leandro è il terzo figlio di Jacopo e avrà dal 1588 iscritto alla fraglia veneziana bottega sua a Venezia ecco diciamo Francesco Battaglia perché per ragioni stilistiche il dipinto mostra legami con la Sant'Agata e la Santa Pollonia della chiesa di San Giuseppe della 79-80 o la Susanna e Vecchioni di Nimm del 1585 è già una stile differente mentre Livia Alberton proponeva la identificazione non so se ancora la proponi per il successivo podestà Niccolò Mocenigo perché perché la veduta del Ponte di Bassano con il Ponte tra l'altro prima testimonianza su tela del Ponte Palladiano sarebbe legato a una sorta di memento celebrativo del fatto che è stato Niccolò Mocenigo podestà di Bassano a fare selciare diciamo così la strada che dalle case del Corno Rotto conduce al Ponte ora qui io mi fermo io dico solo che trovare la commissione dogale di questi due podestà aiuterebbe all'identificazione allora il podestà è capitano in questo caso perché a Bassano i due ruoli sono assimilati in un'unica figura giusto siamo intorno grosso modo ai 16 mesi però come avete potuto sentire dalle date che ho citato talvolta possono essere incarichi più brevi o più vanno dai 12 ai due anni grossomodo nelle città suddite brava brava signora brava senza considerare poi adesso io chiudo perché vi voglio lasciare spazio per le parole per gli interventi per le domande sì ce n'è una quantità enorme proprio per il fatto perché sono incarichi così brevi certo più di 80 ne abbiamo del cosiddetto tivè allora di Leandro chiudo voglio chiudere lasciatemi questo ultimo minuto per chiudere con un quadro straordinario qui vi mostro di Leandro questo tardo ritratto già molto avanzato del 1619 di Oxford perché non solo è il ritratto dell'amico e protettore di Galileo Galilei il conte il console di Siria Gianfrancesco di Niccolò Sagredo grande matematico sperimentatore costruttore di strumenti scientifici amico protettore di Galileo ma perché questo ritratto che è stato attribuito a Leandro Bassano ci mostra il nostro console che esibisce la commissione dogale con tanto di cantonali fermaglie e bindelle d'argento ma ecco guardiamo chiudiamo con questo straordinario dipinto perché voglio chiudere con questo dipinto altro dipinto motivo per la sala del consiglio del palazzo podestarile di Bassano che doveva stare di fronte a quello giovanile di Jacopo commissionato da Matteo Soranza perché opera di Leandro una delle opere più belle dell'attività giovanile di Leandro Bassano datato con precisione 7 giugno 1590 cioè il giorno prima di lasciare l'incarico di podestà Bassano opera che è custodita qui al museo civico e che ci mostra ancora l'atto di proschiunesis in questo caso con il precettore e i due figli Pietro e Giovanni i figli del podestà meravigliosa la figura questo ritratto che campeggia al centro della scena la Madonna col bambino si esemplifica sui modelli paterni che abbiamo già visto del quadrone di Vicenza del 73 e della paletta di Sant'Emoro del 76 ma soprattutto vedete il santo patrono Bassanio il patrono di Bassano Bassiano scusate e San Clemente Papa Clemente Quarto Papa dopo San Pietro il quale in una lettura recente di Francesca Meneghetti si ritiene essere stato aggiunto perché è attribuito a Papa Clemente I la prima lettera ai Corinzi nella quale si ricorda l'importanza diciamo del riconoscimento della legittimità dell'ordine costituito interessante lettura in un quadro che ha una valenza di carattere pubblico e politico ebbene anche di Lorenzo Cappello del Podestà Cappello abbiamo la commissione Dogale è custodita la biblioteca laurenziana di Firenze eccola qua ancora una volta qui vedete che Lorenzo Cappello come nel quadro di Leandro si fa raffigurare con i due figlioletti deve essere stata realizzata poco prima o durante addirittura l'esecuzione del quadro di Leandro qui c'è il santo eponimo Lorenzo la direi somiglianza è indiscutibile e l'ultima commissione che vi mostro ci dà l'abbrivio su quello che dicevo poco fa su questo maestro Huntington Master Robo Dovino che secondo me è uno dei miniatori di più alta qualità di queste commissioni qui vi mostro altre commissioni che sono degli stessi anni e che sono assimilabili a questa di Bassano custodita la Laurenziana cioè questa di un membro della famiglia Belegno la British Library qui addirittura il nostro magistrato ha il bastone del comando non ve l'ho detto ma è il simbolo del potere che del reggimento ci sono alcuni affreschi molto belli nelle ville che ci mostrano queste scene in cui due podestasi consegnano come la campanella dei due primi ministri c'è la consegna del bastone e ancora questo del Fitzwilliam di un membro della famiglia Contarini dove ancora una volta San Marco vedete accompagna l'atto di devozione e ancora una volta al centro c'è il libro il libro con missione quindi torno a dire in questa manifesta rappresentazione simbolica della Repubblica di Venezia come Repubblica del Leone come Repubblica del Libro e come Repubblica che viene in qualche modo rappresentata nei suoi aspetti apologeti celebrativi grazie a questi straordinari documenti che sono opere d'arte ma come ci insegna Zeri sono strumenti per capire il contesto storico culturale politico di chi li ha prodotti voluti e fruiti grazie sono stato sono stato un po' lungo però vorrei che qualche domanda quindi attualmente non esiste un repertorio di commissioni dogali con relativi ritratti perché dovrebbe essere veramente uno strumento base per gli storici dell'arte veneta guardi la sua domanda mi permette di sconderciare che Alessandro si era in un lavoro chiamato quindi quella che ha insonografia di che mi però io vorrei lanciare qui una proposta la lancio un po' anche a me stesso nel senso la fondazione Cini torni ad essere quel centro e baricentro di appunto ricerche strutturate se non lo fa la fondazione Cini come lo dovrebbero e lo devono fare le università chi lo può fare? cioè mettere insieme tutti questi documenti e creare grazie agli strumenti informatici dei repertori che ci consentirebbero per esempio attraverso il sistema della ricerca strutturata di mettere insieme per esempio nomi, stemmi magistrati, ritratti, figure cioè veramente è un lavoro di sinergia che è tutto da costruire la mia traccia di oggi al di là dell'aspetto libresco voleva proprio anche suggerirvi questo di quanto è importante studiare le opere d'arte in sinergia cioè quando noi sentiamo ancora alcuni storici dell'arte che dicono la miniatura arte minore a me viene da ridere cioè già Zeri tuonava contro queste stupidaggini cioè non esiste un'arte minore cioè se una conquista oggi c'è stata della storiografia è quella che tutti i manufatti concorrono a costruire un tessuto ampio e articolato e come diceva Zeri non saremo mai in grado di concepirne, percepirne tutta la complessità ma ci dobbiamo avvicinare grazie alla sinergia che si può istituire tra manufatti, testimonianze, documenti la storia la si fa solo così non c'è altro modo grazie mille per la pazienza per aprire una qualsiasi discussione perché non lo so se adesso le regole siano cambiate ma le sette partono gli allarmi o quasi quindi ringrazio naturalmente di aver ricostruito io credo fortemente più che con Zeri, con Haskell che la storia si faccia fondamentalmente la storia dell'arte sia una parte della storia e quindi che le immagini servano principalmente a documentare elementi della storia questo deve essere assolutamente fondamentale l'altro richiamo che mi pare importantissimo è il ruolo della ricerca che mi pare stiamo tutti un po' dimenticando cioè le università purtroppo hanno spostano la ricerca molto in avanti e quindi con pochissime persone gli istituti come la Fondazione Cini che ha avuto un ruolo fondamentale e devo dire credo che Gino Benzoni avrebbe apprezzato molto questa lettura della storia attraverso le immagini Gino Benzoni è stato a noi molto vicino nella mostra del 2010 e quindi ha amato molto i dipinti di Bassano proprio per questa loro importanza storica prima che storico-artistica che per noi naturalmente è fondamentale però è indubbio che i musei le istituzioni debbano fare ricerca ognuno la propria ricerca e quindi io ringrazio per questo suggerimento che spero qualcuno possa cogliere grazie grazie scusate ma queste parole le voglio non solo sottoscrivere ma le voglio ribadire a tutti i presenti perché qua ci sono gli amici dei musei che fanno un'opera meritoria c'è un pubblico attento e dico sempre parafrasando quello che ha appena detto la dottoressa Ricani che se non si capisce percepisce e interiorizza l'importanza e il valore della ricerca anche nel pubblico diciamo degli amatori e nel pubblico più ampio e più largo ebbene si farà sempre più fatica ad affermare questi principi di fronte a me a un dilagare di vogliamo dire di approcci differenti per usare un eufemismo che oggi oramai dilagano in tutto l'orbe terraqueo nei musei ma non solo nei musei anche nelle istituzioni quando io dico la Cini torni ad essere protagonista è perché la Cini lo è tuttora un baricentro delle ricerche ma in me molte ricerche sono state tagliate ci sono pochissimi denari e io torno a dire a Livia che quegli anni straordinari sul campo a fare i cataloghi sulle ville venete sembra essere stato un grande canto del Cigno perché nessuno più ha finanziato ricerche di quella struttura e di quella portata per cui invito a una consapevolezza diciamo collettiva grazie per la vostra pazienza ancora è finita